E' un'altra cosa che qua in Marocco si vedono che le cose vanno benissimo, nel senso che sono arrivato, ho preso il mio appuntamento veloce, la gente è gentilissima e ringrazio ancora Mohamed Sedis per questa occasione che ha fatto per noi gente dell'Italia e da tutti i paesi del mondo che arriviamo e niente da dire sono pronto per il mio vaccino, non pensavo che fosse così facile, così semplice, ma ringrazio il Signore e ringrazio Allah per questa occasione che ho potuto avere e adesso sono qui che sto aspettando il mio turno per essere vaccinato. a quando erano i Talyan stagliare, è vero che c'è una parte di rimrazio di Talyan e sono un po' i tessinà o dècce, ma l'hamdulillah tutto ciò che sarà bene, tutto ciò che sarà bene, l'hamdulillah.